salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi andremo ad allenare addominali che non ce ne sono perché non sto facendo la dieta giusta sono i dettagli questi mettiamo almeno massa muscolare però vabbè la faremo prima o poi la dieta giusta comunque alleniamo questi addominali faremo tre esercizi come primo esercizio faremo dieci crunch più raga non lo so mi mettere il timer al computer e farò un minuto di plank almeno 30 secondi così 30 secondi un minuto di plank tutto questo per tre serie poi faremo crunch laterali e come ultimo esercizio faremo il non mi viene il nome dell'esercizio quando non ci viene il nome dell'esercizio la miglior cosa è farlo quello così è Grazie a tutti. 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 Abbiamo un po' Grazie a tutti.